La carenza di pioggia in questo 2024 ha fatto scattare in Sicilia l'allarme siccità che ha messo in difficoltà tra gli altri il settore zootecnico. Per fronteggiare tale problematica e venire incontro agli elevatori, la regione siciliana ha erogato il bonus fieno, provvedimento voluto dalla Presidente Renato Schifani, con uno stanziamento di 20 milioni di euro e ha approvato gli elenchi degli elevatori che ne hanno diritto. In tutto sono interessate dai voucher 5.000 aziende con un totale di 200.000 unità di bestiame, alle quali verranno assegnati 70 milioni di chili di fieno. Tali elenchi sono stati trasmessi dai centri di assistenza agricola con l'indicazione della quantità di foraggio assegnata a ciascun allevatore. Nella consegna verrà seguito il criterio di intensità del danno, dalla maggiore al minore, in relazione alle precipitazioni rilevate dal Servizio Informativo Agro-Meteorologico Siciliano. Tra i territori maggiormente colpiti dalla carenza di piogge, per citarne alcuni, quelli ricadenti nei comuni di Catania, Paternò, Adrano, Belpasso, Motta Santa Anastasia, Ramacca, Santa Maria di Licodia e nell'Ennese, oltre al capoluogo di provincia, tra gli altri anche Regalbuto, Centuripe, Catena Nuova, Agira, Assoro, Nissoria e Leonforte. Per le zone ricadenti nelle province di Enna, Caltanissetta, Siracusa e la zona del Calatino a Catania, il fieno sarà consegnato nella struttura ESA, Centro Meccanizzazione Agricola di Contrada Santa Barbara ad Agira, alla presenza di un funzionario incaricato dalla regione. In tutte le altre aree la fornitura potrà avvenire in un luogo concordato tra l'amministrazione regionale e le organizzazioni di categoria, sempre in presenza di un funzionario incaricato. Gli elevatori, direttamente o tramite i centri di assistenza agricola, individuato a propria scelta il fornitore di fieno o tra quelli approvati, ne dovranno dare comunicazione all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Caltanissetta.